Equitalia sarà chiusa, ci sarà un unico soggetto che si occupa dell'accertamento e anche della riscossione. Questa è una richiesta peraltro che ci facevano tutti gli organismi internazionali, OX e FMI, ed è quello che avviene anche nel resto d'Europa. Ma la cosa più importante è la rottamazione delle cartelle. Se prendiamo in mano una cartella vediamo che ci sono tante voci. Soltanto una parte, a volte anche meno rilevante, è quello che si deve pagare. Poi ci sono sanzioni, interessi di mora. Ebbene, noi smantelliamo tutta questa parte. Via le sanzioni, via gli interessi di mora. E chi pagherà entro il periodo previsto, al massimo nel 2018, potrà avere questo grande e straordinario vantaggio. Poi nel decreto ci sono altre questioni rilevanti, fra cui l'abolizione degli studi di settore. Uno degli argomenti che ha tenuto banco in questo Paese, nell'ambito del sistema economico e imprenditoriale, per tantissimo tempo. Gli studi di settore vengono superati. Ci saranno degli indici di affidabilità economica e fiscale. Coloro che rispetteranno questi indici avranno tutta una serie di premi, compreso anche le riduzioni dei periodi di accertamento e tante altre semplificazioni che vanno incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese, perché noi dobbiamo smantellare la montagna di burocrazia che assilla il cittadino italiano. Grazie.